Buongiorno Nadia, sento sempre più parlare di fedi vuote, ma esattamente cosa sono le fedi vuote? Sono apparentemente fedi normali, uno le guarda e sembrano tutte quante uguali, però sono fedi che sono state svuotate all'interno, il che vuol dire che esternamente c'è una lastrina che gira intorno, però dentro sono vuote. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sono più leggere, noi le guardiamo, sembrano uguali, però se noi le tocchiamo sentiamo che sono più leggere e questo comporta anche che essendo leggere, ed essendo una fede che si porta sempre perché la fede va portata sempre, con le mani si lavora e si rovina facilmente. Come si può rovinare questa fede? Si rovina schiacciandola perché si ammacca, si rovina perché magari cade e si ammacca e poi viene schiacciata e lì in quel punto lì poi crepa. Cosa vuol dire poi? Che si va a saldare, si va a saldare, però essendo vuota non dura tanto. Quindi fammi capire bene, qual è il vantaggio a questo punto di acquistare una fede vuota? Eh beh, costano meno perché allora uno guarda la fede e dice guarda, ma sono tutte uguali, questa costa meno, costa meno sì perché pesa meno anche. Quindi tu dici costa meno, lo acquisto, però hai lo svantaggio che nel tempo hai bisogno di manutenzione, giusto? Allora, io siccome questo non lo voglio, nel mio lavoratorio non le faccio, proprio per il fatto che io non voglio fare brutta figura con i miei clienti, proprio con le fedi vuote. Io le fedi le preferisco farle leggermente, magari più piccole ma piene perché devono durare nel tempo. Vi mostro qualcosa che magari vi rendete conto. Queste sono proprio le classiche fedi che si possono fare in più colori, giustamente. Questa, la prima che vedete, è la francesina. Queste sono tutte fedi classiche, vero? Sono proprio le classiche, la francesina, la comoda e questa è proprio la classica perché è piatta dentro, piatta e bombata esterna. Di queste poi ci sono più pesi, c'è da 5, questa è da 7 e così via. Però queste non hanno nessun problema, anche se noi prendiamo questa fede qui che è 4 grammi, se noi la prendiamo quella vuota, pesa 2 grammi. È logico che non può durare nel tempo e io personalmente non voglio avere problemi con le fedi quando vengono da me. Non le devo assolutamente avere, anzi preferisco dire, beh la facciamo un po' più piccola ma la facciamo piena. Se qualcuno desiderasse maggiori informazioni sulle fedi, 7 gioielli, piazzale Castagnara 36, Cadoneghe, Padova. Grazie e buona giornata. Grazie.